Il duplice omicidio di Castrovillari, proprio per la sua efferatezza, continua a far discutere e le indagini proseguono a ritmo serrato. È stata la procura della città del Pollino a coordinare l'inchiesta, ma per competenza la prosecuzione tocca all'antimafia di Catanzaro, che potrà quindi avvalersi dei risultati del lavoro dei colleghi di Castrovillari. È ormai chiaro che sia stato un delitto maturato negli ambienti alla criminalità organizzata ed anche la dinamica risulta ormai chiara. Il duplice omicidio è avvenuto altrove e non nel luogo del ritrovamento. Maurizio Scorza aveva certamente appuntamento con i suoi sicari, probabilmente attirato con un tranello. L'uomo infatti si era presentato all'appuntamento disarmato e, come accertato anche grazie ad alcuni testimoni che avevano sentito la sua compagna qualche ora prima, niente nei pensieri dei due lasciava presagire a un epilogo come questo. L'esecuzione è stata violenta, due colpi di pistola sparati per uccidere Scorza, una alla bocca, un'altra alla nuca. La donna, rimasta in macchina, avrebbe cercato riparne lo spazio fra il sedile e il cruscotto e avrebbe chiesto aiuto telefonicamente, ma il suo tentativo sarebbe stato bloccato da uno dei killer che l'avrebbe uccisa sparando ben 12 colpi di pistola. Successivamente il corpo dell'uomo sarebbe stato portato nel bagagliaio e uno dei sicari, si pensa ad un commando composto da due o tre persone, avrebbe guidato la macchina fino al luogo del ritrovamento. Gli inquirenti hanno cercato tracce dei killer proprio nell'auto e il dispositivo GPS della macchina potrebbe essere utile per ricostruire il percorso. Così come utili saranno anche le immagini delle camere di videosorveglianza presenti sul posto, sono stati richiesti inoltre i tabulati telefonici dei telefonini di Scorza e della sua compagna tunisina Anened Li, tutti elementi che potranno essere utili alle indagini che dovranno dare risposte alle tante domande e anche alle richieste di sicurezza dei cittadini.